Salve a tutti ragazzi, io sono Miran e oggi siamo in un nuovo video Dopo 600 prove di inquadratura, perché in cucina o anche in sala volendo è l'unico posto dove si vede decentemente, essendo che oggi piove e c'è una luce orribile sol che se mi mettevo per il dritto mi veniva inflesso da lì e non si vedeva niente, sembravo illuminata da Dio ma in comprensione non si vedeva niente Ok, adesso è tutto Comunque nel video odier, non è in questo bellissimo Ok, cosa ho detto? Non lo so Comunque in questo bellissimo spazio su Youtube ho deciso oggi di presentarvi i miei animali In realtà questo linguaggio aurico non era necessario Comunque ho deciso di presentarvi i miei animali Comunque ho ben pensato di presentarmi i miei gatti, perché ho tre gatti e magari spiegarvi un attimino come l'ho preso e a fine del video mi piacerebbe anche lasciarvi un messaggio sperando che possa arrivare più persone possibili Comunque iniziamo e partirei in ordine cronologico dal primo che ho preso che è anche quello più anziano Eccomi, allora lui è Matisse, il mio primo micio L'avrete sicuramente visto nella fine del video del home tour Comunque nel caso ve lo lascio qui sotto da qualche parte Lui è il mio primo gatto e l'abbiamo preso ormai nel lontanissimo 2012 dopo che ci fu un terremoto qua in Emilia abbiamo deciso di prenderlo perché c'erano dei gatti terremotati che cercavano famiglia e in un'empa che sarebbe un ente di protezione animali un ente nazionale di protezione animali e abbiamo deciso insomma di prenderlo da lì perché non so se lo sapete e non so se l'ho mai detto qua su YouTube ma penso di no io ho sempre avuto dei gatti in campagna però noi abbiamo deciso di prendere questo bellissimo micione questo micione è appunto a Lempa perché c'erano questi gatti che cercavano famiglia e quindi appena l'abbiamo visto ci siamo subito innamorati l'ha scelto mia sorella e l'abbiamo chiamato Matisse perché appunto viene dagli aristogatti di cui siamo molto fan sia io che lei lui è un gatto molto tranquillo molto molto tranquillo dorme e mangia in continuazione però è anche un gatto che brontola tantissimo cioè lui ecco lo sentite anche adesso vuole scendere infatti tra poco lo metto giù arrivo fatti vedere è un gatto che brontola e piange tantissimo è molto affezionato a noi soprattutto a me e mia mamma ma anche a mio papà perché mio papà è quello che gli dà da mangiare la mattina e lui è molto abitudinario come gatto ogni tanto fa i dispetti perché dovete sapere che adesso è arrivato un terzo gatto che insomma dopo vi spiego meglio la sua storia comunque è arrivato un terzo gatto e lui è un po' dispettoso però è il mio preferito io lo dico sempre è il mio preferito io gli voglio un sacco bene perché lui appunto è un gatto molto umite però è anche molto 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 geloso e quando gli vengono toccate le sue cose insomma diventa un po' rispettoso però gli vogliamo bene e quindi niente siccome vuole scendere vado a prendervi il prossimo gatto il prossimo gatto Ed eccomi qua con il mio secondo micetto, lui è recentemente più antipatico di Matisse, nel senso che non gli piace molto di stare in braccio, ma infatti cercherò di sbrigarmi perché poi non ci vuole tanto stare. Ecco, come vedete già inizia a brontolare sigela, lui si chiama sigela, che è un'espressione dialettale di queste zone, per indicare un soggetto che piange molto, infatti lui da piccolo è stato scelto da mio papà, cioè in realtà mio papà l'ho portato a casa, ma è stato lui a scegliere mio papà, perché questo piccolino, che mamma mia non vuole stare, vabbè, faccio scendere perché non vuole molto stare in braccio comunque. Sigela è stato abbandonato dalla sua mamma e faceva parte dei nostri gatti che appunto avevano in campagna, è stato abbandonato dalla sua mamma e siccome non volevamo che morisse perché, insomma, sua mamma non gli dava da mangiare, probabilmente perché aveva riconosciuto, diciamo, che è un gatto che aveva poi dei problemi e l'aveva scattato, e quindi l'abbiamo portato a casa e adesso è con noi da quasi otto anni. Abbiamo scoperto dopo, più o meno un annetto e mezzo, che purtroppo Sigela ha le crisi epilettiche, quindi ogni tanto, non sempre, non gli vengono queste crisi e abbiamo comunque deciso di, insomma, tenerlo con noi anche perché è già con noi da tanto e ci siamo affezionati tantissimo. Lui purtroppo ha questo problema, però sta bene, è vispo, è abbastanza antipatico, devo dire, perché è quello più dispettoso della casa e va sempre dispetti su dispetti. Non ama molto stare in braccio, deve essere lui a venire in braccio a te, perché altrimenti non ne vuole sapere, e anche le coccole le prende solo se ne ha voglia. Gli piace molto andare da mio papà, che mio papà è stato colui, diciamo, che l'ha portato a casa e quindi con mio papà è stato un rapporto molto bello e era il suo componente, diciamo, preferito della famiglia. Lui ha le sue cose e le sue cose sono solo sue, non bisogna toccarle, nessun altro gatto ci deve andare dentro, perché lui è molto molto territoriale, nel senso che è fatto così, però gli vogliamo tanto bene Sigela. E poi, cioè, dovrei mettervi delle foto, magari ve le metto delle foto, dei brevi video dei miei animali, ma vi posso garantire che Sigela è un gatto, cioè, è un meme, un meme vivente, cioè, lui fa delle facce, fa troppo ridere, adesso poi se trovo delle foto ve le metto qui, qui da qualche parte, non lo so, perché sto muovendo il dito, che sembro che ho dei problemi anch'io, ma probabilmente ci vedo, non lo so. Adesso, per non fare una cosa troppo lunga, vi vado a prendere l'ultimo gatto, che penso di riuscire a prendere, perché è abbastanza tranquillo, però ve lo vado a prendere, poi ve lo presento nella clip successiva. Grazie a tutti. Ed eccomi qua con il mio terzo e l'ultimo gatto, lui è completamente diverso, mentre gli altri erano grigi, tigrati e bianchi, lui è completamente rosso, con anche gli occhi dello stesso colore. Lui si chiama Romero, nome sempre preso dagli aristogatti, lui diciamo che ha una storia un po' più particolare, praticamente presi, insomma, Matisse e Sigela, noi non dovevamo più prendere gatti, perché comunque due sono già impegnativi. Poi noi comunque non abbiamo un giardino molto grande, quindi avere tanti animali diventava anche, oltre che impegnativo, poteva essere più che altro anche una sofferenza per loro, nel senso che noi ogni tanto li facciamo uscire, ma avendo la strada molto vicina abbiamo paura che si facciano male o che succeda qualcosa, quindi cerchiamo sempre di tenerli vicino, non a caso, cioè questa cosa vi farà strano, ma Sigela, nonostante che sia un gatto, noi dobbiamo portarlo col guinzaglio nel cortile, perché lui se no scappa e abbiamo paura sempre che non torni, insomma. E in realtà è stato lui che ha scelto di venire a casa con noi, nel senso che quando c'era mio nonno che andava a dare da mangiare ai suoi gatti in campagna, che appunto lui aveva una casa sua con i suoi gatti, gli andava a dare da mangiare, allora un giorno lui è tornato a casa, abbiamo iniziato a sentire piangere qualcosa che piangeva, mia mamma era convinta che ci fosse un gatto dentro la macchina, mio nonno diceva di no, e una volta insomma tornati che lui tornava a dare da mangiare ai gatti, abbiamo scoperto che questo patatino è infilato dentro al motore della macchina e si è incassato, e quindi era rimasto lì perché voleva provare di venire a casa, insomma. Quando l'abbiamo preso fuori era tutto storto, era messo veramente male, così ho pregato mia mamma di portarlo a casa perché sarebbe morto, e siccome me ne ero innamorata, perché era veramente piccolo, era tutto malmesso, io volevo provare a salvarlo. Allora l'abbiamo portato a casa, solo che anche mia mamma giustamente non sapeva se ce l'avrebbe fatta, perché era veramente messo male. solo che i miei due non lo volevano, hanno iniziato a soffiare, a picchiarlo, non c'era verso, allora abbiamo provato di portarlo da mio nonno. All'inizio mio nonno era un po' titubante, poi con i miei metodi di convincimento, non so se l'abbiamo convinto e l'abbiamo tenuto. L'abbiamo portato dal veterinario, che anche lui ci ha detto che non sapeva se sarebbe sopravvissuto, e invece è qui con noi da quasi sette anni. Lui è un gatto tranquillissimo, lui nonno, è un gatto veramente, io penso che un gatto più tranquillo di lui non ci sia, come vedete sta in braccio, non piange, adesso vuole scendere perché ha fame, fatti è già l'ora della pappa per loro, comunque è un gatto veramente tranquillo, non si lamenta mai, anche quando sta male non piange mai, dove lo metti lui ci sta, è veramente tranquillissimo, è un patatone questo gatto, guardate quello, niente. io spero, io adesso e Romeo vi salutiamo, ciao, ciao, vi salutiamo così anche lo romanzo. Ecco, guardate, guardate com'è bello che si fa anche a vedere, fatti vedere, tanto, fatti vedere. io mi voglio bene, vi mando un bacione, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, scrivete se avete un animale, e se vuoi essere prendere uno. Ah, è importantissimo, avevo detto che vi avrei lasciato un messaggio a fine video, poi mi sono un po' dimenticata, ma cercherò anche qui di non essere troppo breve, mi raccomando, prendete, cioè di non essere troppo breve, nel senso di non essere troppo lunga, cioè, vabbè, dicevo, prendete un animale solo se sapete di avere le possibilità, perché l'animale comunque, che sia un gatto, che sia un cane, che sia un crescetto, che sia un cosciutto animale, ogni animale ha i suoi fabbisogni, ogni animale ha bisogno di i suoi spazi, ha bisogno dei suoi tempi per abituarsi, ha bisogno anche di, magari di giardini in sicurezza, di balconi in sicurezza, di un posto anche dove stare, se non avete il posto, e se sapete di non poterlo prendere, non prendetelo, perché poi si rischia di doverlo abbandonare, ed è sbagliato, e soprattutto, non abbandonate mai gli animali, un po' perché comunque è sbagliato, in qualsiasi senso, e poi perché gli animali sono di grande compagnia, e cambiano con tutto l'amore che possono, che possono darvi, sono veramente una compagnia infinita, e se lo facessero a voi, penso che non vi farebbe piacere, e se scoprite, magari venite a sapere, che un animale ha un problema di salute, che magari diventa un po' più costoso, non c'è problema, si fa quel che si può, però ovviamente si cerca sempre di dare affetto, amore all'animale, incondizionatamente, anche se l'animale ha dei problemi, anche se l'animale non è esteticamente perfetto, perché ripeto che ne sono perfetto, gli animali sono belli tutti quanti, dal primo all'ultimo, e quindi se prendete un cane, un gatto, un cricetto, un cavallo, quello che vi pare, cercate sempre di dargli amore, affetto, di capire quali sono i suoi fabbisogni, cercare di soddisfarli, ecco, non mi veniva al termine, quindi niente, spero che questo messaggio, sia stato capito, nel caso ne possiamo discutere nei commenti, e io vi voglio bene, appunto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento, lasciate quello che vi pare, e siccome non so più che cosa dire, vi lascio liberi di fare quello che vi pare, quindi niente, ciao! Ciao!